30 minuti in balia del mare agitato e del panico per non riuscire a tornare a terra. Brutta avventura quella vissuta da due ragazzi rimasti bloccati su uno scoglio affiorante a pochi metri dalla riva. I giovani avevano raggiunto lo scoglio a nuoto ma quando hanno cercato di rientrare il mare agitato aveva creato una corrente e una risacca che impediva loro di farlo in sicurezza. Hanno quindi preferito restare sullo scoglio ma le condizioni del mare sono poi peggiorate. Tutto questo è avvenuto nelle acque di Lido Conchiglia nella zona della montagna spaccata. Notati da alcune persone presenti sulla riva e richiamate dai gesti dei due giovani sono partite le richieste di aiuto alla guardia costiera che in pochi minuti ha raggiunto lo specchio di mare. Il battello è riuscito così ad avvicinarsi allo scoglio e una volta coordinate le operazioni di recupero dei due ragazzi, gli stessi sono stati trasportati nel porto di Gallipoli dove poi sono stati riconsegnati ai familiari che hanno certamente vissuto momenti di grande apprezzione. Non è la prima volta che in quello specchio d'acqua bagnanti restano bloccati su scogli affioranti. Il consiglio è quello di valutare con attenzione le condizioni del mare prima di tentare simili avventure perché bastano pochi minuti perché le correnti diventino pericolose.